Benvenuto nel mio canale YouTube. Un paio di mesi fa l'Italia è diventata il paese principale per visualizzare i miei video. Non so perché, ma non mi dà fastidio. Questo video che pubblico oggi è per ringraziare il sostengo di questo maraviglioso simpatissimi abitanti. Apprezzo la tua presenza e ti invito a iscriverti al mio canale. Se entro il 6 gennaio raggiungiamo i 300 iscritti, prometto di vestirmi da 300 per fare un video speciale. E spero che il mio italiano ci sia stato comprensibile. La ziare un mi piace. Se è così, ciao!